Non mi credete? Puzzavo di salsedine e di vomito quando sono approdato a questa terra. Vediamo se riuscite a riconoscerli. È questo il suggestivo e dolente inizio del concerto dell'Orchestra del Mare al Teatro alla Scala di Milano. Un'orchestra al debutto che suona strumenti che prendono vita dagli scarti delle barche dei migranti ripescate dalle acque sotto l'evocativa installazione di Mimmo Paladino dal titolo Dormienti. Grazie alle persone detenute nel carcere milanese di opera, i legni di quelle imbarcazioni diventano viole e violoncelli, contrabbassi e violini. Io sono il legno venuto dal mare. Ero sfinito a pezzi, ricordate? Ma in principio ero Dio e la mia fibra forte come il ferro. Il ricavato della serata realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Santo Versace è destinato a finanziare i laboratori di liuteria nelle carceri di opera e secondigliano, oltre a quelli di Rebibbia e Monza. Il legno degli strumenti vibra e porta con sé la memoria di terre lontane, di sogni talvolta realizzati, altre e infranti. Quello stesso legno di cui sono fatte le barche che accompagnano corpi e con essi storie dove non c'è giudizio, ma soltanto pietà. Sabrina Rappoli Sky TG24 Grazie 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 Grazie